Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Disaggi in vista per gli automobilisti sul raccordo di Perugia. L'assessore regionale Giuseppe Chianella in seconda commissione ha assicurato la massima collaborazione di ANAS. La proposta iniziale di ANAS prevedeva l'attivazione contemporanea dei tre cantieri. Poi a seguito di una interlocuzione con i soggetti coinvolti, a partire dal comune di Perugia, è stato deciso di dilazionare i lavori in periodi diversi, spostandoli in base ad importanti eventi come Eurociocolat prima e Fiera dei Morti poi. In questo momento ANAS sta anche valutando se spostare alcuni lavori a dopo Natale. Il cronoprogramma degli interventi è di otto mesi. Prevedere interventi di notte, come auspicato dal portavoce del centrodestra e liste civiche Claudio Ricci, comporterebbe maggiore impiego di risorse non previste. E' quanto spiegato dall'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella e dalla dirigente Diego Zurli nella riunione della seconda commissione presieduta da Giuseppe Biancarelli, dove nell'ambito della discussione relativa al piano regionale dei trasporti 2014-2024 si è parlato dei lavori che interesseranno dal prossimo mese di novembre il raccordo di Perugia. Alcuni commissari dell'opposizione hanno puntato il dito sulla giunta regionale per la poca incidenza sul programma di intervento di ANAS e soprattutto sul no ai lavori nelle ore notturne per mitigare i disagi agli utenti. L'auspicio comune è che vengano date informazioni chiare agli automobilisti per quanto attiene ad una intelligente viabilità alternativa. E in seconda commissione l'assessore regionale ai trasporti ha risposto a un'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Marco Squarta sugli impegni assunti dal precedente esecutivo che prevedevano in fase di assestamento di bilancio l'allocazione di 2 milioni di euro da destinare al comune di Perugia per l'infrastruttura mini-metro. Per l'assessore Chianella la mobilità alternativa rientra nel Fondo Nazionale Trasporti quindi la regione potrà finanziarla nell'ambito degli interventi del piano regionale potrebbero però esserci apposite risorse già nell'assestamento di bilancio. Il consigliere Chiacchieroni ha presentato un'interrogazione per chiedere all'Aggiunta il ripristino del doppio senso di marcia della pavimentazione stradale e la messa in sicurezza di tutte le opere del tratto della strada provinciale di collegamento tra i comuni di San Terenziano, Collazione e Pantalla. Nella risposta l'assessore alle infrastrutture Chianella ha detto che si tratta di un problema comune ad altre strade provinciali impegnandosi quindi a verificare la possibilità di attingere alle risorse necessarie all'interno dei capitoli relativi al dissesto idrogeologico. Prosegue la discussione sulla mozione del Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza con la riunione congiunta di prima e terza commissione consigliare presente l'assessore Luca Barberini. La prima e la terza commissione presiedute da Andrea Smacchi e Attilio Solinas si sono riunite in seduta congiunta per ascoltare l'assessore al sociale Luca Barberini e continuare a discutere la mozione sull'introduzione del reddito di cittadinanza proposta dai consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. L'assessore Barberini ha ricordato che la settimana scorsa il governo ha annunciato una misura nazionale per contrastare la povertà, il reddito di inserimento attivo. La legge di stabilità individua 600 milioni di euro per il 2016 e un miliardo negli anni successivi in favore di famiglie con minori e famiglie con Isee inferiore ai 3.000 euro. Le regioni diventano strategiche per l'integrazione e il sostegno di questa misura o sostenendo famiglie con Isee più alto oppure famiglie non solo con minori ma anche con anziani ad esempio o aggiungendo risorse regionali al valore mensile individuato dal governo. L'assessore Barberini ha sottolineato che servono misure attive per uscire dalla povertà con progetti sostenibili che possano andare avanti anche con le proprie gambe. Stiamo pensando addetto anche ad una legge regionale per l'inclusione sociale e il contrasto della povertà. Una norma che fissi i principi, avere infatti una legge quadro che definisca in maniera puntuale bisogni e strumenti dà anche l'opportunità di indirizzare e spendere meglio le risorse che avremo a disposizione nei prossimi anni. Dai lavori delle commissioni è emerso che in 26 dei 28 paesi europei esiste un reddito minimo di inserimento e che le famiglie umbre sotto la soglia di povertà assoluta nel 2014 erano 18.000 mentre quelle sotto la soglia di povertà relativa 30.000. In terza commissione il professor Carlo Fiorio, garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, ha presentato la sua relazione, la relazione del garante per l'Assemblea legislativa dell'Umbria. La popolazione carceraria in Umbria è diminuita nell'ultimo periodo, da giugno 2014 a febbraio 2015, di 220 unità. Dei 1.343 detenuti presenti nei quattro istituti Umbri, 1.33 sono definitivi mentre 310 sono in custodia cautelare. Gli stranieri sono 386, circa il 30% del totale. Le donne 41. Il 57% dei detenuti definitivi sta scontando una pena inferiore ai 5 anni, vale a dire che in considerazione delle ulteriori detrazioni concedibili attraverso la liberazione anticipata, queste persone sono in grado di vantare un'aspettativa qualificata alla concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Questi i numeri sulla situazione carceraria Umbra forniti dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, il professor Carlo Fiorio. I principali problemi evidenziati, oltre a quelli rappresentati dai detenuti sulle dimensioni ridotte delle stanze e sulla bassa temperatura, sono costituiti dal probabile accorpamento del provveditorato Umbro sull'amministrazione penitenziaria a quello della Toscana. Sarebbe importante, ha detto Fiorio, mantenere l'esperienza del polo universitario penitenziario, comprendente l'ufficio del garante, l'Università degli Studi di Perugia e l'Adisu, che hanno firmato un protocollo con l'obiettivo di favorire il diritto allo studio. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, medici e infermieri offrono una copertura di 24 ore al giorno, ma dal dicembre 2014 è entrato in vigore un piano di ristrutturazione della medicina penitenziaria, che prevede la costituzione di graduatori aziendali all'interno delle quali saranno selezionati e assunti con contratti annuali nuovi medici, alcuni dei quali potrebbero essere alla loro prima esperienza lavorativa, circostanza che potrebbe arrecare disagi dal momento che i detenuti, oltre ai sintomi ordinari legati alle malattie di cui soffrono, hanno una serie di sintomatologie collaterali legate alla condizione detentiva, che potrebbero non essere correttamente trattate da medici inesperti, i quali potrebbero anche essere più esposti a valutazioni non corrette sullo stato patologico a volte millantato dai detenuti, allo scopo di ottenere ricoveri ospedalieri esterni. Il garante ha anche segnalato la circolare che preclude la possibilità di essere rappresentato da persone da lui delegate nei colloqui con i detenuti e il fatto che vi assista un agente di polizia, che non si limita quindi al controllo a vista ma ascolta anche, secondo Fiorio, in violazione della legge, che lo prevede solo per il 41 bis. Prendendo atto della relazione del garante, la commissione presieduta da Attilio Solinas predisporrà una mozione per impegnare la Giunta sulle problematiche emerse, a partire dal mantenimento del provveditorato in Umbria e l'intensificazione della collaborazione con gli attori sociali, le associazioni e gli enti preposti al diritto allo studio. E in Commissione Sanità e Servizi Sociali l'assessore Barberini ha risposto a due interrogazioni di Movimento 5 Stelle Fratelli d'Italia e discusso con il consigliere proponente Valerio Mancini della Lega Nord la mozione per il reimpiego dei lavoratori delle province nel sistema sanitario regionale. Su questo tema Barberini ha ribadito che sono 27 i posti disponibili nei limiti dettati dalla finanziaria del 2005 che impone di non superare il tetto di spesa per il personale costituito dall'ammontare delle spese relative all'anno 2004 ridotte dell'1,4%. Sulla interrogazione del Movimento 5 Stelle inerente la verifica dei requisiti dei componenti della commissione d'esame per il concorso da 103 posti da infermiere e i tempi per conoscere i risultati della prova scritta, l'assessore ha risposto che i risultati sono stati pubblicati in Gazzetta e nel sito dell'azienda ospedaliera, sottolineando che al di là degli oltre 4.700 candidati che hanno sostenuto la prova è stato necessario verificare le oltre 16.000 domande pervenute provenienti anche da quelle regioni che, a differenza dell'Umbria, sono in piano di rientro e non possono assumere nemmeno per coprire il turnover. Per quanto riguarda il presidente della commissione d'esame, nel frattempo andato in pensione, Barberini ha spiegato che possiede il necessario requisito della lunga e comprovata esperienza che viene richiesto per quel ruolo e poteva quindi essere designato al pari di tutti gli altri componenti, fra medici e amministrativi, che rispecchiano in pieno quanto richiesto dalle normative. Sulla interrogazione di Marco Squarta, fratelli d'Italia, riguardante il caso di tubercolosi verificatosi in una scuola primaria di Spoleto, l'assessore Barberini ha spiegato che i sintomi iniziali della malattia non sono di immediata evidienza e percezione. La bambina presentava poca tosse, scarsa febbre, neanche tutte le sere. È stato poi attivato immediatamente il protocollo sanitario con raggi X e profilassi antibiotica per gli otto bambini e i quattro insegnanti a stretto contatto e le procedure sono state estese anche ai soggetti che hanno avuto contatti meno prolungati. 83 bambini frequentanti la mensa e 11 docenti, tutti negativi, che ripeteranno il test a distanza di otto settimane. Il consigliere Squarta si è dichiarato parzialmente soddisfatto perché un minimo di leggerezza, detto c'è stata, specialmente per quanto riguarda l'aspetto della prevenzione del contagio di una malattia potenzialmente rischiosa per la popolazione, anche in considerazione del fatto che ci sono zone del mondo da cui provengono i bambini che frequentano le nostre scuole in cui queste patologie sono endemiche. Presentata in prima commissione la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sull'innalzamento dei canoni concessori pagati per produrre energia idroelettrica. Innalzare i canoni di concessione pagati dalle società che sfruttano le acque superficiali per produrre energia elettrica, riferendoli alla potenza efficiente e non più a quella nominale, e trasferire ai comuni su cui insistono derivazioni di acqua pubblica per finalità di riqualificazione ambientale, l'80% di quanto incassato dalla regione Umbria. Sono questi contenuti della proposta di legge del gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, illustrata ai componenti della prima commissione dal capogruppo Andrea Liberati. Presentando la proposta di legge, Liberati ha spiegato di voler anche far riaprire in modo permanente la cascata delle marmore, riducendo magari la portata durante la notte ma senza mai interromperla, valorizzandone l'enorme potenziale turistico attualmente inespresso. Una situazione, ha spiegato, che ha effetti negativi anche sul lago di Piediluco, una zona che avrebbe dunque diritto ad indennizi e compensazioni ambientali. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, va in onda su tutte le emittenti locali della regione e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa e su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci. Grazie per la visione.